La riapparizione dei 191 passeggeri miracolati getta le basi di miracoli futuri. Coincidenze sempre più strane. Anch'io ero sull'aereo. Perché ci troviamo insieme nella stessa banca? Il rapilatore è un passeggero. Nuovi indizi da interpretare. Forse salverà anche noi. Nella mia chiamata sulla data di morte vedevo un pavone. Tutto è rivolto a scoprire. Sono una di loro. Come evitare la predestinazione. Ho soltanto otto mesi. Troveremo il modo di salvarti. Non lo hai già fatto. Salvala. Mamma! Manifest, seconda stagione. Prima TV Canale 5, venerdì in prima serata.